in un minuscolo paese della puglia tutto è pronto per la via crucis signorina mafalto questa via crucis è un disastro completa che cosa sono questi segni rossi sulla faccia è lo schiaffo del legionario non ti suggestionare troppo non è un melodrama no è la passione di passion e quando ci sono nuove idee apertura mentale è un gran desiderio di pace ma tutto è possibile michele non può più fare gesù iusuf iusuf tu solo mi puoi aiutare fammi questo favore io sono gesù io e chi è che ha sostituito il mio incandidato vieni con me è arrivato nero è il musulmano mario se devi sparare spara a me non è serata per i tuoi deliri razzisti assì organizza un incontro con tutta la stampa e lo sputtano davanti a tutti e dico che ha un fratello non è vero sei un bugiardo lui e tutti con maesani suoi so terroristi credino ha fatto esplodere il tricolore italiano con una bomba artigiana state facendo tanto rumore per nulla riuscirà a meluc a rapacificare il mondo ti sei a meluc a meluc a meluc tratto da una storia che potrebbe essere anche vera oh ai casca mi dobbiamo ancora mettere in gru a meluc al cinema bellissimo e no man